Come garantire la presenza degli sportelli bancari in ogni comune è il presupposto per poter fare anche una lotta allo spopolamento, che alla fine è la conseguenza di servizi che mancano alle comunità, i servizi di informazione finanziaria, i servizi di consulenza finanziaria. In questo momento anche particolare, anche del caro Mutui, per esempio, diventa un elemento fondamentale. Avere le informazioni su come accedere alla finanza pubblica, ai Mutui, per fare un investimento, piccolo o grande che sia, è il presupposto per realizzarlo. Pertanto la battaglia che sta facendo Wilka in campo per tutto il territorio nazionale è veramente lodevole. La mia presenza come consigliere regionale è l'attestazione di una necessità, quella di trovare una soluzione col governo nazionale per garantire il presidio su ognuno degli 8100 comuni di Basilicata di sportelli bancari che possano garantire questo tipo di servizio.